Un dossier sulla realtà agrigentina con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti. L'iniziativa del segretario provinciale della CGL Massimo Raso che ha affidato il documento al prefetto di Agrigento affinché possa essere consegnato domani al presidente della Commissione Nazionale Antimafia, l'onorevole Rosi Bindi. L'arrivo è provisto per domani mattina. Alle 11 in prefettura la Commissione ascolterà il prefetto, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri della Guardia di Finanza e il caposezione della DIA. Poi nel pomeriggio le audizioni del procuratore distrettuale di Palermo e dei responsabili delle procure di Agrigento, Sciacca e Gela. La Commissione Antimafia è arrivata in Sicilia questa mattina per partecipare a Palermo ad un convegno sulla gestione dei rifiuti nell'isola. Siamo speranzosi, dice il segretario della CGL Massimo Raso, che la visita possa accendere potenti riflettori sulla condizione di questa terra. Guardando i settori sanità, acqua e rifiuti, si è segnalato che le spese riferibili all'intero settore sanitario raggiungono quasi 12 miliardi di euro. Le spese riferibili ai rifiuti sono meno di 800 milioni di euro l'anno, mentre sull'acqua, aggiunge la CGL, nessuno riferisce cifre precise. Si comprende dunque, aggiunge Massimo Raso, come questi tre settori possano alimentare appetiti mafiosi, come dimostra del resto la vicenda emersa in questi giorni a Catania, dove i magistrati hanno tratto in arresto i vertici di una società che, per la Sicilia, vedeva tra i suoi attori principali a fini del noto capo mafia Matteo Messina Denaro. La CGL agrigentina ha ripercorso un pezzo di storia della propria battaglia e legato copia della documentazione elaborata nel tempo, con l'ospicio che la Commissione, presieduta dall'On. Bindi, chiede alla competenti Forze dei Polizia e la Magistratura e renda pubblici gli esiti dei precedenti dossier, che la CGL ha elaborato anche su altre vicende, dalla questione dei beni e delle aziende confiscate, alla situazione degli organici di Polizia e Magistratura, alle vicende che fanno riferimento ad imprenditori coraggiosi e ad altri che, al contrario, agiscono su binari diversi. Prendiamo atto con grande piacere, ha concluso il segretario della CGL, del ritorno in provincia dopo 12 anni della Commissione Nazionale Antimafia.